L'assessore al bilancio e alle tante altre cose della Regione Abruzzo, Carlo Masci, ci dà qualche informazione, credo anche utile per comprendere il lavoro che è stato svolto nel Regione a proposito proprio del bilancio, diciamo un bilancio record. Intanto diciamo che la Commissione Bilancio ha lavorato veramente bene, perché non è mai successo nella storia della Regione Abruzzo che un bilancio approvato dalla Giunta poi venisse licenziato dal Consiglio senza stravolgimenti. Questo è un importante segnale, perché vuol dire che c'è compattezza nella maggioranza e c'è autorevolezza delle proposte fatte. Poi la soddisfazione è quella di vedere finalmente un bilancio di una Giunta di centrodestra approvato senza l'esercizio provvisorio. Cosa che ha sempre caratterizzato le ultime legislature. Ed è un altro risultato importante, perché vuol dire che si sta lavorando e si sta lavorando bene. Poi credo che sia importante anche chiarire che cosa vuol dire una Regione senza fondi. Perché è vero che il gettito fiscale non permette di coprire ad oggi, visto il debito sanitario e visto il piano di rientro sanitario, le spese di gestione della macchina amministrativa regionale. Però è anche vero che ci sono tante risorse, innumerevoli risorse, che arrivano dallo Stato e che arrivano dall'Europa e che dobbiamo poter veicolare, e questo stiamo facendo, sul territorio per creare occupazione, per creare sviluppo, per creare opportunità per i giovani e per tutti coloro che vogliono intraprendere. Questo è il discorso che noi abbiamo fatto in Regione, parliamo di qualche, perlomeno 2 miliardi e mezzo di euro che arriveranno nei prossimi anni sul nostro territorio, escluso il discorso dell'Aquila che è a parte. Quindi molte risorse, noi dobbiamo organizzare, come stiamo facendo, la macchina amministrativa regionale, potremmo modificarla per far sì che sia orientata verso l'utilizzo di quelle risorse e non sia presa all'inseguimento di risorse regionali che non ci sono. Rapporto con le opposizioni? Devo dire che il rapporto con le opposizioni è buono, nel senso che c'è una corresponsabilità perché oggi si capisce qual è la gravità del momento e quindi c'è un Consiglio regionale che lavora per cercare di risolvere i problemi della nostra Regione e in alcuni casi, soprattutto sui progetti importanti, cerca di lavorare all'unisono. Abbiamo trovato una opposizione consapevole del fatto che un assalto alla diligenza come era avvenuto negli anni passati non era produttivo per la Regione e quindi si sono fatte scelte di merito che alla fine hanno portato ad un bilancio che è stato licenziato dalla Regione nella stessa maniera in cui è stato approvato in giunta. Il terremoto ha inciso in qualche modo nel creare questa particolare atmosfera di lavoro? Io penso che è cambiato il periodo storico, nel senso che oggi c'è il periodo della responsabilità e tutti quanti ne sono coscienti e consapevoli. Dopo il terremoto sicuramente c'è stato un cambiamento totale di mentalità da parte di tutti. C'è la necessità di rimboccarsi le mani che lo abbiamo fatto in maggioranza e in opposizione e c'è la consapevolezza del fatto che non ci sono più soldi da buttare e da sprecare ma ogni euro deve essere utilizzato per il bene di questa Regione e quello stiamo facendo. Per concludere, la sanità resta sempre il punto dolente proprio per essere quasi metaforici ma è vero che dobbiamo temere qualche stravolgimento oppure i livelli di assistenza resteranno quelli tradizionali? La rivoluzione sarà con le risorse che ci sono fare in modo che ci siano gli stessi livelli di assistenza anzi migliori rispetto a oggi con le stesse risorse. Credo che sia possibile, ci stiamo lavorando. Oggi il Presidente Chiodi ha assunto anche il ruolo di commissario alla Sanità, c'è l'assessore Venturori che ci sta lavorando, c'è il tavolo romano che opera all'unisono con la Regione. Credo che si sta andando nella direzione giusta. Poi credo che riusciremo l'anno prossimo a rientrare nel piano di rientro e quindi anche i debiti della sanità diminuiranno. L'obiettivo nostro è arrivare al 2011 con una situazione molto più chiara sicuramente dopo aver risolto i tanti problemi che oggi assinano la nostra Regione.